Siamo appena arrivati all'evento Cosa sappiamo fare in zona Cimiano. Parliamo di formazione professionale e anche di lavoro. Insieme a noi oggi abbiamo Matteo Rainieri. Buongiorno. Buongiorno, bentrovate. Chi siete e di che cosa si occupa la vostra realtà? Perfetto, noi siamo un centro di formazione professionale che all'interno ha anche altre realtà come i servizi territoriali per la disabilità e altri due CFP. In particolare abbiamo fatto questa proposta legata non tanto all'orientamento, seppur abbiamo coinvolto i ragazzi delle scuole medie, gli orientatori, gli insegnanti di sostegno, ma tutta la popolazione civile per interrogarsi su quelli che sono gli strumenti di inclusione sociale, in particolare di politiche attive che tanto si sentono parlare in termini di goal, PNRR, ma che partono proprio dei corsi di formazione professionale, dall'esperienza tecnico-professionale degli ambienti che noi abbiamo come ente accreditato per la formazione professionale in regione Lombardia e che riteniamo essere davvero la risorsa per far fronte ai problemi di occupazione giovanile, NIT e le richieste che le aziende nell'ambito dei servizi, ora siamo qua in cucina e sala bar, ma anche nella parte di produzione come vedremo dopo con elettromeccanico e autoriparatore, ci chiedono seppure gli allievi e le nuove generazioni fanno fatica ad identificarsi e immaginarsi così giovani già in un ambito di realizzazione e di progettazione, consapevoli del fatto che però se si inizia da qua si può sviluppare un'idea e un progetto di vita che in qualche modo richiede un costante aggiornamento, un processo di life learning, come avviene per i profili più alti, ma che riguarda poi l'assetto produttivo, il welfare e quindi i benefici della nostra vita di tutti i giorni. L'evento di oggi della Civil Week, in che cosa consiste? Allora consiste in un tour abbastanza dinamico di quelli che sono gli ambienti principali dei lavoratori, quindi torno a dire la cucina, la sala bar, il laboratorio di autoriparazione, saldatura e di elettromeccanica dove i formatori insieme a degli allievi mostreranno appunto a o loro coetanei o persone addetti al lavoro, per cui insegnanti, orientatori, ma anche semplici cittadini potranno capire meglio cosa la formazione fa a dispetto dell'istruzione professionale che è nostra omologa ma si occupa di altri aspetti. Noi abbiamo un taglio fortemente orientato all'inserimento lavorativo, allo sviluppo di tirocini curricolari, quindi esperienze, onde job reali con convenzioni, coperture assicurative e attività che vengono svolte da tutor aziendali e questo ci distingue diciamo dall'istituto tecnico professionale della tradizione. La nostra realtà, come tante altre in Lombardia, hanno proprio questo elemento di forte impatto su quelle che sono le politiche giovanili e quindi di occupazione. È la prima volta che hai partecipato alla Civil Week? Sì, perché purtroppo nella prima edizione poi non eravamo riusciti a concretizzare, questi ultimi due anni siamo stati chiaramente presi da altre attività legate allo stato di emergenza e così anche come segnale di ottimismo e ripresa ma in vista di quello che possiamo essere un'edizione dell'anno prossimo ancora più inclusiva e allargata ci sembrava giusto dare un piccolo segno da cui partire, misurare il senso delle esperienze e ovviamente quindi per questo tema noi ci siamo mossi anche attraverso i canali quindi rivolgendoci ai dirigenti degli istituti qui vicino, ai nostri contatti in termini di orientamento e quindi allargando quella fetta di popolazione civile che al di là dell'interesse eccetera poteva avere già nell'immediato un interesse di ricaduta. Perché è importante per voi comunque partecipare alla Sibil Week? Perché questa realtà è diciamo a gestione di AFGP dal 1992 ma raccoglie l'eredità del Don Calabria e quindi la realtà del centro è un'eredità storica per il Comune di Milano, abbiamo ricevuto anche alcune onoreficenze per la storicità nel servizio appunto reso verso i giovani prevalentemente ma anche sulla disabilità e quindi sembrava bello trovare una nuova chiave di attualizzazione di quello che stiamo facendo e di quelle che sono le reali necessità poi di istruzione, formazione e supporto al progetto di vita dei giovani ma anche dei meno giovani ecco. Voi siete a stretto contatto comunque con i ragazzi quindi con realtà giovani, qual è la parte più difficile di questa realtà e anche appunto di gestire, di essere all'interno di un centro come questo? È proprio il meccanismo del garantire un'inclusione concreta dove al di là appunto dei bisogni del singolo che abbiamo citato i giovani oggi non sono diversi dai giovani di cento anni fa, manifestano la loro inquietudine, hanno ovviamente modalità diverse di farlo ma credo che la cosa più difficile sia quella di accompagnarli sapendo che nel nostro ruolo educativo i risultati non saranno misurabili nell'immediato ma richiederanno una fase di accompagnamento per lasciare andare. Quindi dobbiamo essere solleciti nella fase in cui li abbiamo in carico per il periodo scolastico ma se questo lavoro viene condotto davvero nell'orizzonte di non terminare al termine della giornata di lavoro ma anche con il tirocinio, con la rete di aziende e con i nostri partner, queste persone poi a distanza di anni si rendono conto che seppur nella semplicità di alcuni mezzi hanno avuto un'opportunità in più in termini di contatto, di attenzione e quindi di riuscire in cose che banalmente quando si sono iscritti non pensavano neanche possibili e invece di avere quelle piccole conferme che fanno sì di avere degli adulti, una società che possa essere sempre più attenta, sensibile ma anche consapevole dei limiti e di quello che ci viene richiesto di fare per lavorare e migliorare in senso complessivo. C'è un messaggio, un consiglio che vorresti condividere con noi o con i giovani di Milano? Allora beh sicuramente è importante l'ascolto, ascoltare i propri pari, ascoltare le persone più giovani, ascoltare le persone più anziane, ascoltare le persone che fanno e si occupano di cose diverse per ovviamente allargare i termini di curiosità e di stimolo, la propria realtà circoscritta e quindi mantenere aperte e non precludersi possibilità che oggi i mezzi tecnici e l'innovazione conferiscono, ci sono professioni che solo qualche anno fa non esistevano, che danno grande successo e risalto, dietro però credo che ci sia appunto la curiosità, l'interesse e la capacità di ascolto, quindi molto prima di parlare imparare ad ascoltare e raccogliere le testimonianze di chi può con passione trasmettere qualcosa che è autentico. Io ti ringrazio tantissimo e spero che l'evento sia un successo e lo sarà sicuramente e ti ringrazio ancora e noi ci vediamo al prossimo evento.